Buonasera, dopo questa composa esibizione io vi propongo due storielle in lingua romagnola. Non so se qui voi tutti capite il romagnolo, però adesso c'è uno a caso come campione per vedere se... lei capisce il romagnolo? Beh, è romagnolo, capis? È scorneche, assodo lento. Perché? Benissimo, adesso io do la parola al mio amico Ariodante che allora a questo punto vi racconta le due storie romagnolo di Raffaello Baldini che è un poeta e scrittore, purtroppo ci ha l'assiato nel 2005, che ha scritto tante cose. Ariodante! È un po' timido, lo vado a chiamare. Allora, assondea, assondea, alla testa del mio paese. E... stasera, lo spalla. Allora, se pot, lo sirete, è direttore del castro e si che... Senti tutti! 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 più stracchi, aiutate che smursiccevano lecce, e qualcuno a me ha la striscevano dal spallo, e tridecù, mi pareva troppo, ormai la senteva tutta, ci siamo far più che altre, e se invece arriva in basso un debolore, in appia la luce, vordì, di seghi faceva e poi attacca sull'anima e il cuore, e mi ha detto no, la guarda è un chietto, e si stacchia da come niente, e mi ha detto grazie, e mi ha detto un po' azzirò, si stacchia da con la spalla, alla muraia, la guarda è in là, si stacchia da con l'oriana, e lì a lei, non mi ha detto tutto come a lei, con la camicetta, e la strada è in là, e qui, a lei, poi c'è qualcuno, che ha visto una spalla. ... 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 Guarda voi, che ore sono? Non lo so, poi guarda l'orologio dunque, come non ce l'hai? Chi? Dalle piscord sul sabbat, ascoltate, andiamo a dormire, per me sarà il quattro, quattro e mezzo, Basta ma qui, ma voi avete l'ora precise, dai dimmi l'ora precise per chiedere, ma qual è la storia? A spazio avete l'ora precise? Beh, è stato un altro, ma chi ha la tua parte? Ma Bruno? Assi te Bruno? Bruno, ascoltate, valla valla, è per noi, è qui, ho capito che niente. Ah, chi che è che bello? Allora portavo proprio a l'orologio a l'orologio a l'orologio? Però per me, è stato sì, super, ma sono assieme. Home, è stato assieme, non sbagliare niente. Beh, fate, fate, merci, sei rimpiato. Oh, vabbè, grazie di stessi. Vabbè, ho già l'ora precise. L'ora è precisa, precisa. Che miserio! Aspetta un po' a chiacchere io stavolta. Com'è laser? Laser? Oh, laser! Oh, c'è nessuno. Laser! L'ora è vero, è subito loro! Oh, che sapevo, che sei per me? Io ho dovuto. Ormai li sono per loro, per me. Un'ora è che questo non è un po' a se. Pazzesca. Al panorosti ti faccio qua, che arriva. Oh, ti faccio, dimentichi, corale! È vero, è vero, è vero, è vero che è un cuir. per guardarlo non voglio 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 guarda tu stia perché passa chi ha qui non posso perché sei Bruno sei te ma Bruno fa malattivo a te corale e per noi ce l'hai l'orologio? eh se sei l'orologio e ho l'orologio che senti da me da me a fare per gli cambi e ho capito ma vabbè vuoi sapere che lei adesso non è preciso guarda ma non ho mai l'era di minunai che lo vorrei farlo e ma che e lui va un sbaglio di un minuto e tra la ruba che fa adesso eh no 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 questo è l'orologio che segna il santo un quarto l'è il santo un quarto e l'è proprio il santo un quarto e il pre-signor insomma Bruno appunti l'ore e tre a te la vengo a te la vengo subito aspetta 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 ma ci ma c'è un caffè che sai dottende finire mi urloi che s'ho un valore senza fai infabio perché non è canale ma c'è l'incontro l'ho lasciato da pregare che lei su un salvec una scappa mica oschio con la scappa e sta fu che arriva fa fai fa fai oi fa fai par piacere dimaltè quale ho par piacere dimaltè par piacere lei te e io capì, ma il corale avrei sapere loro preciso perché si dì, ma il corale, corale, ma dì, ma... a te lo pude, le tiert, e te dai, e io capì che tiert, ma me avrei sapere preciso loro preciso per fare, dì loro che le... le semper tiert, e te lo tolaste l'olga, e te lo sfatterti! Davvero Padini, di Santa Caccelo di Romagna! Grandissimo, grandissimo Marco! Una delle colonne portanti del nostro spettacolo! Open your mind, open your mic, fategli di nuovo un applauso! Grazie!